E' un'artista, fai lo scrittore. Ho visualizzato la punta dell'asile, la sorgente del fiume d'eredità in cui tutti stiamo negando. E' Silvio Berlusconi, ragazzo, il singolo indiscusso di quest'epoca senza viettile. Traccerò il profilo di un grande comunicatore e descriverò da vicino quel magnetismo che lo rende capace di instaurare un rapporto di fiducia con l'uomo nella strada. Ma stai dicendo che vuoi assassinare il Presidente del Consiglio? Assassinare? Brutta parola. Volevo sapere se conosci qualcuno che può vendermi delle armi. E' forza Italia! E' media? No! No! Spada non serve a colpire solo se stessi. Cane. Mangia carne. No! 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 No!